E' un pugnale qualunque. Rilasciare la sabbia riavvolge il tempo. E solo chi possiede il pugnale ne è consapevole. Hai visto anche tu? Principe d'Astan, ti sei chiesto come hai potuto trovare un simile tesoro. Non sei curioso di sapere perché un orfano di strada sia stato scelto per diventare un principe? Gli dèi hanno un disegno per te, un destino. C'è chi è pronto a usare il potere del pugnale per distruggere il mondo. Tempo che tutto cancelli. Devi proteggerlo. Chi sono questi demoni? Assassini addestrati nell'arte di uccidere. Il Tempio Guardiano Segreto è l'unico posto in cui il pugnale è al sicuro. Portalo lì, D'Astan. Quanto ti piace dirmi quello che devo fare, vero? Solo perché sei bravo a eseguire gli ordini. Non ti ci abituare. Il pugnale. Dobbiamo ritrovarlo. Un così nobile principe che salta in aiuto della Bella in pericolo. Chi ha detto che sei Bella? Ci sarà una ragione per cui non stacchi gli occhi da me. Tu sei... E io... È tempo. Dammi il pugnale! Come hai fatto, eh? È impossibile. Difficile. Non è possibile. Non è possibile. Grazie a tutti.